Voglio incentivare, diciamo, un botto in risposta anche con Roberto Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza. Poi Fico, il mio Presidente, devo dire, è sempre stato, questo possiamo dirlo, è sempre stato un Presidente che ha ascoltato e in vigilanza sono sempre usciti i pareri della loro nemica. Quindi è stato un Presidente che lavora bene, poi ognuno... Sono contento di questo riconoscimento. Roberto Fico, tra l'altro, è anche uno dei membri del Direttore del Movimento, anche se ogni tanto qualcuno se lo scorda. Va bene, torniamo da Roberto Fico. Insomma, Ranucci sembra molto convinto, molto appassionato e molto fermo nelle sue ragioni. Questa Rai, il Parlamento, l'ha salvata o l'ha condannata? Sì, di nuovo, buonasera a tutti, a lei, a Ranucci. Allora, se vorrei cercare di mettere un po' di... Un po' d'ordine. ...e anche rispetto alla scade che ho sentito e rispetto a quello che ha detto il Senatore Ranucci. Allora, il primo punto è che noi siamo completamente d'accordo al fatto che ci sia un amministratore delegato, che ci sia un Consiglio di amministrazione vero e che abbia dei poteri e che l'amministratore delegato abbia oneri e onori e quindi che risponda delle sue scelte. E questo è importante che avvenga il Rai con un Consiglio di amministrazione forte che levi definitivamente la Rai da un ibrido tra una società pubblica e una società per azioni e diventi... Perché lei dice che la Rai ancora non è come diceva Ranucci, Eni, Enerfi, Meccanica, cioè una creatura un po' diversa ancora. È una creatura diversa, una creatura ibrida e secondo me un Consiglio di amministrazione che finalmente corrisponda al Codice Civile è una cosa sacrosanta che era scritta anche nel disegno di legge a mia prima firma del Movimento 5 Stelle. La cosa che noi contestiamo in modo pesante non sono i poteri dell'amministratore delegato, ma sono i meccanismi di nomina dell'amministratore delegato, ovvero è il governo, e quindi posso ipotizzare, il Presidente del Consiglio in primis che sceglie l'amministratore delegato della televisione pubblica che deve essere per... Però questo appunto accade anche per le grandi aziende partecipate, no? Qui è diverso, è molto diverso, perché per una grande azienda partecipata il governo dice io scelgo l'amministratore delegato migliore, invece in questo caso qua la televisione pubblica è indipendente proprio dal potere politico, in modo molto forte. Perché non può fare gli interessi di governo o di partiti, sennò perde la sua ragione d'essere. E allora è qui che contestiamo in modo forte il meccanismo di nomina. Non è possibile, e questo non succede in nessun'altra parte d'Europa, che l'amministratore delegato venga scelto direttamente dal governo senza alcun tipo di cuscinetto. La BBC ha un trust, in Francia c'è un Consiglio nazionale degli audiovisivi, i Spani ha altri criteri, ma c'è sempre un cuscinetto. E gli unici due paesi nella nostra Europa che hanno questo tipo di legislazione sono la Mondavia e l'Ungheria, che hanno già avuto richiami dalle autorità europee per questo modo di legiferare rispetto alla televisione pubblica. La televisione pubblica deve essere indipendente, è il motivo per cui esiste la televisione pubblica. Perché una televisione pubblica che non è indipendente dà anche delle notizie magari di cui non ci possiamo fidare. e quindi abbiamo un abbassamento della qualità generale perché è troppo psicologicamente prona al potere politico. In questo caso si sposta molto l'asse. Ma quindi è vera quella cosa che abbiamo detto all'inizio, che forse Renzi ha mantenuto la parola dicendo di aver sottratto la rail a controllo dei partiti, ma l'ha stato posta invece di più a controllo del governo. Sicuramente si può dire perché l'asse è passata molto al governo rispetto ai partiti, non c'è dubbio. È un passo avanti o un passo indietro? Mi faccio capire. È un passo secondo me indietro perché è ancora peggio che il governo possa avere un potere così forte sulla televisione pubblica. Allora non è questo che dobbiamo risolvere. È il modello, il meccanismo di nomina. Noi dovremmo riuscire a mettere in quelle posizioni, soprattutto la televisione pubblica, tramite meccanismi di nomina, persone totalmente indipendenti, di comprovato merito e onorabilità. Mi faccio tornare, Ranucci, solo su questo punto. Senatore Ranucci, c'era un modo diverso, un meccanismo diverso per immaginarsi criteri di nomina dell'amministratore delegato della RAI che avrebbe potuto magari meglio mettere d'accordo le parti in gioco in Parlamento? O questa era l'unica strada possibile? Guardi, il fatto che tra l'altro anche il senatore Gasparri ha continuato sempre a dire che c'è un problema di corte costituzionale perché bisogna parlamentarizzare il Consiglio di Amministrazione e questo in parte è vero perché ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale in cui si dice che il Parlamento deve nominare la maggior parte del Consiglio di Amministrazione e due terzi del parete della vicinanza e quindi anche questo ha un... Cambia poi un po' la natura del Presidente, diventa un Presidente di garanzia se non sbaglio? Diventa un Presidente come tutti i Presidenti di Consiglio di Amministrazione che è combo, che controlla, che è di garanzia. Cioè meno un capo azienda più una garanzia? Ma come in tutte le aziende, in tutte le aziende il Presidente non è un capo azienda. Chi si prende le responsabilità e ha detto bene Fico, chi si prende le responsabilità e deve avere responsabilità e deve rispondere con i suoi atti agli stakeholders, voglio dire ai soci che sono non soltanto i soci ma anche i abbonati eccetera, è l'amministratore delegato. Ora l'amministratore delegato non può che essere nominato dall'azionista di maggioranza. Allora, o l'azionista di maggioranza... Fico parlava di un trust, di una fondazione, di qualcosa diciamo di intermedio che non mettesse troppo la nomina nelle mani del Presidente del Consiglio. Ma secondo lei i trust, le fondazioni, tutto questo, la politica non ci mette dentro le mani? Cioè io la vedo molto difficile che in qualsiasi modo la suggerimento di un nome non ci sia una politica dietro che mette le mani. Questo è un sistema molto più trasparente dicendo che il governo si assume la responsabilità di nominare un amministratore delegato, quell'amministratore delegato ha questi poteri ed è lui il responsabile dell'azienda. Perché se io azionista non nomino un amministratore delegato o perlomeno non indico, perché poi ricordiamoci che il Consiglio di Amministrazione, che è il nome dell'amministratore delegato, i poteri per farlo, da chi gli vengono? Perché se no diventa uno interpare e quindi uguale agli altri. Quindi il fatto che ci sia un amministratore delegato che è indicato dall'azionista è il modo per cui noi possiamo avere un'azienda che a questo punto deve rispondere al mercato, agli abbonati e deve rispondere a quelle che sono le sue funzioni di servizio pubblico che è la prima cosa che noi dobbiamo mettere in piedi. Ultima cosa che voglio dire, sul contratto di servizio noi abbiamo messo una cosa molto importante, che nel contratto di servizio ci sarà la necessità di fare una consultazione, la consultazione tra... Una consultazione pubblica, tra tutti. Esatto, esatto. Ma questo è un altro passo, un grande passo. È una cosa che dovrebbe piacere 5 Stelle in questo senso. Perché è stato un loro suggerimento. Perché parlo così molto serenamente? Perché io con il senatore Irola ho lavorato bene, ci siamo confrontati, poi alcune cose sono arrivate, altre no, ma questo fa parte della politica e del confronto... Beh, però il risultato non è così felice, perché loro lo chiamano una Gasparri 2.0... Beh, io direi togliamo il nome Gasparri, perché poi dopo tutto voglio dire una cosa. Per cambiare un'azienda, la prima cosa bisogna cambiare la governance. Anzi, noi in questo modo abbiamo cambiato la governance e mi assicuro che la Gasparri avrà sicuramente... Tra l'altro con una delega, noi abbiamo dato una delega al governo per alcuni interventi, la RAI diventerà anche un'azienda multimediale, perché per la prima volta ho scritto che la RAI è un'azienda multimediale... Le parliamo, le parliamo, però prima volevo tornare un momento da Fico, perché volevo chiederle questo. Quando voi parlate di una legge Gasparri 2.0, cosa intendete? Intendiamo proprio il fatto che l'AS, invece dai partiti, si è spostato verso il governo. In ogni caso io non sono d'accordo con Ranucci, perché secondo me far nominare l'amministratore delegato dal governo è proprio la metodologia peggiore. Lei avrebbe immaginato una fondazione, una cosa di questo genere, che si intermediasse? Noi abbiamo analizzato un altro meccanismo che prima di tutto, e questo l'abbiamo proposto anche a Ranucci quando era relatore e a Peluffo e alla Buonaccorsi quando era relatore alla Camera dei Deputati, per esempio di avere dei requisiti in positivo e dei requisiti in negativo, cosa che in effetti nella legge non sono assolutamente contemplati. Che cosa è un requisito in negativo? Per esempio, per tenere fuori la politica, diciamo che chi è stato parlamentare negli ultimi cinque anni non può diventare consigliere di amministrazione. Quindi il campo dall'orto andrebbe bene perché non ha questo requisito, mi pare. Non ha questo requisito, però dovevamo mettere comunque i requisiti in negativo, anche il fatto che era stato membro del governo negli ultimi cinque anni e che avesse testere di partito non poteva assolutamente essere consigliere, diventare consigliere di amministrazione della RAI. E poi i requisiti in positivo, cercare di capire chi può essere consigliere di amministrazione della RAI, che tipo di curriculum, non avevamo ipotizzato un consiglio di amministrazione interdisciplinare, quindi dove ci potevano essere persone che si occupavano di materie tecnico-scientifiche, economico-giuridiche. Però mi scusi se ne interrompo, Figo. E questo assolutamente non è stato messo nella legge di governo. Io ho letto un giudizio di Carlo Freccero, che è il consigliere di amministrazione indicato al Movimento 5 Stelle, che diceva che questa legge non ci piace, però il campo dall'orto è così bravo, ha un così buon curriculum, che magari forse ci porterà a qualche buona sorpresa. E' chiaro che le cose poi le dobbiamo sempre leggere tra le righe. Comunque, io sono contento se il campo dell'orto ci porterà delle belle sorprese e che la RAI diventerà una vera media company, indipendente, e che il vero azionista rimangono e siano i cittadini che pagano il canone. Questo è fondamentale. Allora lo vedremo anche nelle... Poi di canone parliamo anche, perché anche su questo... C'è un ultimo punto su questa questione che voglio dire. Noi a volte cerchiamo di trovare dei meccanismi attraverso i quali le nomine si facciano in una forma indipendente. Però c'è un altro problema, che ci vuole la cultura nei partiti politici e nel paese affinché questo... Facile a dirsi. Perché fatta la legge si ha trovato l'inganno. Noi dobbiamo risolvere l'inganno, è la cultura di questo. Presidente, sta arrivando il GR regionale, torno da lei appena finisce il GR regionale. A me nessuno metterà mai in conto niente che abbia a che vedere con il governo dei partiti sul Rai. Non metterò mai il mio partito nelle condizioni di essere a Rai 2 Civattizio. Ecco Ranucci, secondo lei questa sorta di giuramento di Renzi, non mi troverete mai a dire a Rai 2 Civattizio, a Rai 3 Civaccaio, questa riforma lo aiuta a realizzare questa promessa o no? Direi assolutamente di sì. Posso tornare un secondo sui requisiti? Siccome Fico parlava dei requisiti della legge, c'è scritto esattamente il contrario. Cioè che ci vuole un equilibrio tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano professionalità e comprovate esperienze in ambito giuridico, finanziario, industriale, culturale, nonché anche l'autorevolezza, non abbiano conflitto di interessi. E in senso negativo è stato omesso per la prima volta che non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, per esempio tutti quelli che sono stati ministri o viceministri nei mesi precedenti, consigli regionali e tutta una serie di nomine che non possono essere fatte. Questo però non è mai successo in passato, ministri e viceministri che siano diventati direttori generali. Siccome parlavamo dei requisiti, ci sono requisiti positivi e negativi. Questo non è stato mai messo o anche ricoperto cariche politiche varie. Quindi voglio dire, non è stato messo quello dell'incompatibilità rispetto ai parlamentari e devo dire, io sarei stato d'accordo per metterlo, poi nell'ultimo momento l'aula, questa parte non ha votato. Quindi lei era più grillino dei suoi colleghi in questo senso, se così si può dire. Guardi, non deve essere almeno una punizione se uno ha fatto il parlamentare che poi non può far parte più di nulla perché ci sono anche parlamentari... E diventa una specie di marchio di infamia, quello è troppo poi, no? Esatto, voglio dire, non è così perché ci sono parlamentari che vengono dalla società. Magari Figo sarebbe un fantastico direttore generale della RAI, un fantastico... Ma certamente sì, perché no... Aspetti, torno da lei, Presidente. No, se mi permettete... Sì, no, doveva anche recuperare una cosa che non le ho fatto dire in tempo prima. Sì, adesso la recupero, rimanendo adesso nel discorso, è che i requisiti, anche in positivo, sono in generale gli stessi più o meno requisiti che erano scritti anche nella legge Gasparri, quelli in positivo. Sono criteri autorevolezza, che cosa significa autorevolezza? Sono pochi, poco stringenti. Noi li avevamo fatti molto più stringenti con dei curriculum che erano più appropriati perché fondamentalmente in questo modo più o meno tutti possono diventare consigliere di amministrazione. Dico, Presidente, così si stringe molto il campo. Alla fine restano in pochi a poterlo fare. Dovevamo avere il coraggio di stringere di più il campo. E poi oltretutto le figure, l'incompatibilità di un consigliere regionale che citava prima il senatore Ranuccio è il fatto che se tu sei consigliere regionale e diventi consigliere di amministrazione della RAI ti devi dimettere la consigliere regionale della RAI, ma del consigliere regionale di una qualsiasi regione d'Italia. Mi sembra proprio il minimo... Invece così non è. Uno può fare tutti e due adesso secondo la riforma? No, secondo la riforma adesso non lo può fare. Però dico, mi sembra veramente incredibile perché noi stiamo parlando di un paese in cui ci sono doppie nomine, tripli incarichi, che è una di quelle cose che noi abbiamo sempre contestato, ma giustamente. E mi sembrava assurdo che un consigliere regionale potesse anche fare il consigliere di amministrazione della RAI. Quindi il fatto che sia stato inserito è una cosa buona, ma mi sembra proprio il minimo sindacale. Noi chiedevamo che non è il fatto di fare il parlamentare un marchio di infamia. È un fatto semplice perché c'è la divisione dei poteri dello Stato che non devono essere commissionati tra di loro e la televisione è un quarto potere. Allora se tu sei stato parlamentare negli ultimi cinque anni ti pigli un periodo di pausa dal diventare consigliere di amministrazione della RAI. E poi magari rientri in gioco. E poi rientri in gioco più. Presidente, io ho una curiosità. Finisca pure. E anche la questione culturale, anche dei partiti che noi stiamo cercando in tutti i modi di spingere per cambiare all'interno del Parlamento e in commissione di vigilanza. Per esempio il PD come consigliere di amministrazione della RAI ha votato l'assistente del presidente della commissione di istruzione del Senato, Rita Borioni. E allora io mi chiedo, in questa logica, che tipo di esempio... Però lì eravamo pre-riforma, eravamo ancora in ambito Gasparri, no? Eravamo pre-riforma ma sono le persone che hanno scritto questa riforma che poi applicano le cose in un altro modo. E' come se io dici, io voglio rinunciare rimborsi elettorali, ok? Però non c'è la legge per la rinuncia. Quindi non ci rinuncio. Invece io prima rinuncio ai rimborsi elettorali, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro e poi propongo la legge. Questo si chiama coerenza nell'azione politica... Però lì però non soltanto il PD ha messo un esponente di partito. Quello è stato un po'... Rispettando la legge, lui non ha fatto la sua indicazione, no? Sì, però... Adesso torno da lei, Ranucci, un secondo solo. No, su questo però non sono d'accordo con quello che lei dice perché le leggi ci possono rispettare in tanti modi, anche in un innalzamento della qualità. Quindi se io rispetto una legge a ribasso perché devo nominare una persona, non vado a nominare l'assistente di un Presidente di Commissione del Parlamento, vado a nominare una persona che non ha dubbi di essere non vicino a un partito politico e invece vicino all'autorevolezza, ai cittadini che non fa gli interessi dei partiti. Allora vorrei levarmi questo dubbio e quindi non avrei mai votato l'assistente di un Presidente di Commissione. Ma lei si immagini se io avessi nominato la mia assistente come consigliere di amministrazione della RAI? Sarebbe caduto... Ma lo sa Fico, lo sa cosa dice il sottosegretario Giacomelli? Dice, a me pare che Fico e Gasparri nelle interviste fanno la rivoluzione, poi nel buio della loro cameretta rimpiangono la cogestione, rimpiangono quella RAI che dicono di voler cambiare. In fondo a tutti un po' conveniva la Gasparri, questo è il sospetto di Giacomelli. Questo è il sospetto sbagliato perché noi non ci siamo mai stati e non abbiamo mai nominato nessuno. In tutte le nomine che abbiamo proposto in Parlamento sono sempre distaccate dal Movimento 5 Stelle, cosa che il partito di Giacomelli non fa. Ed è chiaro che questa è una semplice provocazione per ammettere quello che non vogliono ammettere, che la RAI fa comodo ai partiti come terreno di conquista. Il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che si oppone a tutto questo, facendo anche delle nomine che sono al di fuori del Movimento 5 Stelle e che vanno nell'ottica dell'innalzamento della qualità e della cultura e il motivo per cui la RAI nasce, se no non ha senso che esiste. Senatore Ranucci, veniamo ad un altro punto importante di rimente. La decisione di mettere, di far pagare agli abbonati il canone assieme alla bolletta elettrica. Questa cosa la si sta tentando da tanti anni, ci sono stati tanti pareri contrari, anche dal punto di vista giuridico, anche addirittura costituzionale. Insomma, mettere un'imposta all'interno di una tariffa poteva non essere una cosa molto corretta. Ma insomma, alla fine ci si è riusciti e la Banca d'Italia prevede circa 400 milioni di euro in più, forse anche di più, alla RAI. Che cosa ci si fa con tutti questi soldi in più? Ed è, come qualcuno dice, lo dice anche il direttore della Sette Mentana, una forzatura del mercato e della concorrenza. Beh, innanzitutto, sono quei 400 milioni, ricordiamoci che invece che paghiamo 113 euro, virgola 5, pagheranno 100 euro. Quindi mi sembra che ci sia una diminuzione del canone. Il fatto che tutti paghino meno, ma paghino tutti, per quale motivo, oggi abbiamo circa più del 30% di evasione, per quale motivo non deve essere pagato il canone RAI? Ricordo che il canone RAI è il più basso d'Europa, probabilmente anche tenendo in considerazione che la RAI ha la pubblicità. Ma io non vorrei che poi, parlando di questo, vogliamo fare un piacere a altre concorrenti private. Perché se noi diciamo via la pubblicità dalla RAI, sicuramente facciamo un favore agli altri concorrenti. Beh, però, diciamo, questo potrebbe essere uno spunto interessante. Avendo la RAI un gettito garantito di canone, forse l'ipotesi, la discussione, lo studio di una RAI senza pubblicità potrebbe diventare lecito, quantomeno come ipotesi di discussione. Beh, allora bisogna aumentarlo il canone, perché per mantenere in piedi questa azienda, c'è necessità, allora bisognerebbe aumentare il canone. E fare un grande favore, invece, alle tifo private. E credo che questo sia, invece, assolutamente sbagliato. È un mix che è l'unico, è uno dei casi di buona riuscita tra pubblicità e canone. La RAI tiene un canone più basso, finalmente pagano tutti. Tra l'altro, se capisco bene, non tutti quei soldi in più saranno trattenuti dalla RAI, no? Saranno poi... No, ma infatti il... Questo vedremo se saranno trattenuti tutti o non saranno trattenuti. Io ho detto che saranno dati anche il sistema delle televisioni locali, non so se poi... Guardi, questa è una battaglia che abbiamo fatto, perché noi riteniamo, parlo dal punto di vista parlamentare, che anche le tifo private debbano avere, diciamo, la loro... Un servizio pubblico di prossimità, no? Un servizio pubblico, di servizio pubblico, ma soprattutto credo che bisognerà fare una scelta sulle televisioni private di qualità, perché è chiaro che ci sono circa 700 televisioni private in Italia, ma quelle che fanno veramente un servizio pubblico, quando c'è una calamità naturale o quando c'è un'emergenza... Mi faccio sentire, Presidente Figo, cosa pensa di questa questione del canone in bollette? Come andrebbero utilizzati i surplus di gettito che questo produrrà? Sì, no, il punto fondamentale è questo, che il gettito aggiuntivo, calcolato in 400, 50 milioni di euro, 500 milioni di euro, l'altra grande maggioranza non andranno alla RAI, quindi le persone pensano di pagare il canone, c'è il canone, ovvero il finanziamento alla televisione pubblica al 100%, invece tutto il canone aggiuntivo... Però quella è una norma europea, no? Che non è che si può dare qualsiasi cifra al servizio pubblico, bisogna che sia commisurata ai servizi che vengono resi. No, andrà. Ora, questa è una sorta di tassa di scopo, quella della RAI, quindi io pago il canone per pagare la televisione pubblica, finanziare quello. Invece, con questo recupero di 450 milioni di euro, andranno la maggioranza di questi soldi recuperati dal canone al fondo per l'abbattimento della pressione fiscale, ovvero a copertura finanziaria delle tasse che il governo Renzi vorrebbe elevare e quindi per coprirne una parte ci mette il canone RAI preso dai cittadini. Questo, secondo me, è un assurdo. Poi andranno le televisioni private e poi una parte dovrebbe andare alla riduzione del canone per le persone che sono avanti con l'età, gli anziani. Allora, fatto in questo modo è un abominio, perché tu prendi soldi per finanziare la televisione pubblica senza che i cittadini lo sappiano e lo butti su un altro fondo che poi lo Stato potrà attivizzare alla fine in qualsiasi modo. Era una cosa che non era mai successa e questo è molto grave, io credo. E poi il fatto delle televisioni pubbliche, il finanziamento delle televisioni private è fatto così in un assenzio, pago la TV pubblica per finanziare le televisioni private. E anche questo giro... Rannuncio, qui mi sembra che con Figo proprio non vi siate intesi, eh? No, ma vuol dire... Un momento, un momento. Figo si dimentica che fino ad oggi le TV private sono sempre state finanziate con dei fondi appositi, quindi non è che è una cosa nuova che vengono finanziate le TV, secondo me la cosa nuova è arrivare a dire ci sono solo quelle di qualità, perché quelle che fanno soltanto tutto il giorno pubblicità per quelli che fanno i cartomanti o altre cose... Però l'obiezione di dire, diciamo, l'abbonato, comunque il cittadino, pensa di finanziare la RAI, invece poi quei soldi vanno nella fiscalità generale, è un'obiezione insensata, mi pare. No, io direi, innanzitutto, comunque se una parte di quel fondo verrà usato per abbassare comunque le imposte, comunque ben venga, perché verranno abbassate le imposte. Seconda cosa, se oggi la RAI avrebbe dovuto incassare il 37% in più con l'abbassamento del canone e il fatto che lo paghino tutti, mi sembra che sia un'equa ripartizione, perché oggi, molti evadono e domani non evaderanno probabilmente solo il 5% e mi sembra strano che una volta tanto non si tenga in considerazione che c'è una riduzione di tasse e il fatto che paghino tutti. Volevo fare un'ultima domanda al Presidente Figo, anche qui però facendolo sentire un bellissimo brano di quello che ha detto Matteo Renzi in quella stessa intervista che abbiamo già in parte sentito. E difendiamo anche il ruolo della Commissione Parlamentare di Vigilanza che in molti volevano eliminare. E io invece sono perché il Parlamento vigili e controlli. Cioè, la proposta 5 Stelle è per l'abolizione della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Sbaglio? No. E noi no. Io sono perché la Commissione Parlamentare faccia il suo lavoro e controlli. Io non sono contro il Parlamento, anzi. Insomma, Presidente Figo, qui Renzi si fa paladino della sua Commissione e anche della sua Presidenza a questo punto. Dice che questa riforma aumenta e rivaluta il ruolo della Commissione di Vigilanza. Invece 5 Stelle la vogliono chiudere. Così stanno le cose? Allora, ci sono due cose, diciamo, false. Ovvero, la prima noi la vogliamo abolire nell'ambito della riforma complessiva che il Movimento 5 Stelle ha presentato in Parlamento. e quindi dei poteri andavano alle commissioni permanenti per risparmiare i soldi di una commissione bicamerale e cercare di attuare un'altra metodologia di controllo sul Consiglio di Amministrazione e sulla RAI in generale. Quindi, nell'ambito della nostra riforma, aveva il senso abolire la Commissione di Vigilanza. Nell'ambito della riforma di Renzi non ha più senso. Quindi ce la teniamo stretta la Commissione di Vigilanza a questo punto? Ma non è che ce la teniamo stretta. è utile per attuare un controllo. Secondo, non è vero che viene rivalutata la Commissione di Vigilanza, ma anzi perde il potere di nomina degli amministratori e non acquisisce nuovi poteri, ma vengono anzi lasciati un potere, secondo me soprattutto uno, che poi alla fine è un potere molto limitato, che ovvero è quello di esprimere un parere sul contratto di servizio. Ma questo parere non è vincolante poi nel momento in cui viene approvato. Infatti, dopo sette mesi e mezzo di lavoro della Vigilanza, anche se il nuovo contratto di servizio, il parere votato all'unanimità, e questo non ci lo sa bene, sia la RAI che il Ministero dello Sviluppo Economico hanno voluto procedere alla sottoscrizione del contratto e ci troviamo con un contratto vecchio che è in prorogaccio. E questo è per colpa del Governo e della RAI, dopo un lavoro eccezionale della Commissione di Vigilanza. Allora a questo punto io avrei detto che questo parere non è solo obbligatorio, ma è anche vincolante. Quindi non è vero che i poteri sono stati aumentati o è stata rivalutata. Bene, io qui mi fermerei. Abbiamo molte telefonate. Vi ricordo 800 05 05 78, il numero verde per chi ci segue. Io ringrazio molto i nostri ospiti di questa sera. il Presidente della Commissione di Vigilanza, Roberto Fico, 5 Stelle, Raffaele Ranucci, Partito Democratico, anche lui membro della Commissione di Vigilanza e relatore della riforma di cui abbiamo parlato. Grazie ad entrambi. Buon lavoro. Apriamo le linee del telefono.